Un incontro durato più di quattro ore, quello tra l'eurodeputato Ignazio Corrao, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, e il presidente della Regione, Nello Musumesci, nel quale l'eurodeputato accompagnato dagli altri deputati del Movimento in Europa, che sono andati a trovare a Palazzo d'Orlean, il presidente della Regione, hanno parlato del problema agricoltura che investe tutta la Regione. Numerose sono state le proposte fatte al presidente, tra le quali anche quella di riattivazione del credito agevolato attraverso l'Istituto regionale per gli interventi, sia per quanto riguarda il credito di esercizio, sia per quanto riguarda le anticipazioni per le aziende inserite nelle graduatorie relativi ai bandi, l'attivazione delle clausole di salvaguardia, l'abbattimento dei costi di produzione dell'energia mediante la rimodulazione dei bandi, e poi ancora lo stop ai bandi riservati solo alle grandi imprese e lo sblocco immediato dei pagamenti per il biologico, ed infine il miglioramento della funzionalità del sistema informativo agricolo nazionale. L'eurodeputato ha chiesto anche l'immediato desegretamento dell'elenco degli imprenditori siciliani che portano prodotti agroalimentari all'estero.